La bambina nel buio è un thriller al femminile, il primo thriller che parla del cuore delle donne, che è un tema di cui io mi occupo da vent'anni con venti altri romanzi, ma insieme a un mistero, un mistero che sta dentro questa domanda. Cosa sei disposta a fare per amore? È una storia ambientata tra passato e presente, tra una festa meravigliosa in una villa palladiana nella campagna del Veneto, 1985, e un palazzo veneziano sul Canal Grande adesso. La storia di persone che tu credi che siano in un modo e che in realtà sono in un altro, come accade nella vita, e di mezzo l'indagine su Adisan la conduce Emma, una ragazza di 30 anni londinese che arriva a Venezia, nella Venezia dei morti, della settimana dei morti, per dimenticare un dolore misterioso che tu non sai cos'è ma che la sta divorando e finisce in un palazzo sul Canal Grande che nasconde più misteri di lei. E sono molto felice di presentarlo a Ombria Libri che mi sembra che funzioni davvero benissimo, quindi bravi e complimenti.